...delle iniziative e il concorso fotografico nazionale... Un colore, anzi due colori, il nero e l'azzurro, come soggetti per un concorso fotografico. Nello specifico i colori sono quelli di una squadra di calcio, l'Inter. Il colore come sentimento, il nero l'azzurro e il nero azzurro, per esprimere concetti come aggregazione, momento di espressione artistica e nuovi punti d'incontro. Ad istituire questo primo concorso nazionale è l'Inter Club di Fano, con 30 anni di storia, intitolato ad uno dei simboli della squadra, il Capitano dei Capitani, fulgido esempio di vero fair play, il compianto Giacinto Facchetti, alla cui presidenza siede una donna e tifosa, Tiziana Petrelli, penna del resto del Carlino, con l'amore per il calcio, che ha chiesto la collaborazione di Centrale Fotografia, che quadriverà la parte tecnica del concorso. Il concorso, gratuito ed aperto a tutti, abbraccia il lasso di tempo che va dal 15 ottobre al 19 febbraio 2018, data in cui dovranno pervenire le opere all'indirizzo mail azzurronero2017.gmail.com Da unagerie di veri esperti verranno assegnati il primo, il secondo e terzo premio nel foyer del Teatro della Fortuna. Scheda di partecipazione e regolamento consultabili sul sito centralefotografia.com Azzurronero2017.gmail.com